Spaghetti di zucchine che sono stati conditi con una vinagrette di lime, olio extravergine di oliva, sale, mandorle tostate e accompagnati con un hummus aromatizzato all'oddendero e lime, quindi questo super alimento, l'oddendero e dei pomodorini. È un piatto unico, ci sono le proteine, ci sono le verdure, c'è la frutta secca, c'è l'olio extravergine di oliva, quindi è veramente un piatto unico che si può mangiare ogni giorno. Qui parliamo di Almaverde Bio, quindi il comparto fresco che riesce ad offrire tutti quelli che sono i prodotti adatti per la cucina, dallo zenzero ma non solo, so che ci sono prodotti altamente specializzati per questo tipo di cucina salutare. Noi abbiamo prodotti vegetali, quindi parliamo dei legumi, i ceci, sicuramente anche i fagioli, i piselli, volendo anche il mais, già pronti anche in scatola, cotti a vapore, quindi pronti all'uso e volendo anche la frutta secca, che penso possa essere un'altra proteina vegetale da poter raggiungere ai piatti. Hanno della buonissima frutta secca ricoperta al cioccolato, ad esempio. Per fare un esempio così, giusto, buonissimo. Assolutamente, poi abbiamo i pinoli, ci sono le noci, le noci dell'Amazonia, insomma anche cranberries e goji berries, quindi cerchiamo di spaziare dalla frutta secca più classica a quella più ricercata e specializzata, ottima per tutti gli usi.